Il cuore di Gesù batte, straordinario miracolo eucaristico in Messico. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un miracolo eucaristico straordinario, anch'esso avvenuto in Messico, come quello che vi ho mostrato riguardante quella santa eucaristia che pulsa, il miracolo che forse è accaduto per intercessione di Carlo Acutis. Questa volta rimaniamo sempre in Messico e siamo nella città di Uruapan. Ebbene, qui in questa cittadina, circa quattro anni fa, è avvenuto uno straordinario miracolo eucaristico. Quando è stato esposto il Santissimo Sacramento in una delle chiese locali e a un certo punto, ad adorarlo in realtà, in quel momento c'erano ben poche persone, però è accaduto un miracolo veramente eccezionale. L'ostia ha incominciato a pulsare. Ecco, l'ostia dello stensorio, appunto, contenuta nello stensorio, ha iniziato a pulsare e fortunatamente una persona che aveva il telefonino ha avuto la prontezza di spirito di riprendere questa pulsazione per cui si vede questo cuore di Gesù che batte, batte di amore per l'umanità. Io mi lascio a queste straordinarie immagini, sperando che vi emozionino e vi commuovano come hanno emozionato e commosso me. Tante benedizioni mi auguro che cadano su di voi con la contemplazione di questo Santissimo Sacramento che ci veramente ci sta dando la propria vivente di quanto Gesù ci ami. A presto carissimi, pregate, pregate come ho fatto io davanti a questo straordinario miracolo. A presto. A presto. A presto. Sama singimla Sama singimla Sama singimla Sama singimla Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.